A Cireale, 20 gennaio 1862, festa di San Sebastiano. La misteriosa morte di un nobile capofamiglia, Leonardo Mangini, barone di Santa Caterina, apre scenari e intrighi fino a non allora sconosciuti. Toccherà al baronello Nardo, giovane nipote della vittima, ricostruire l'accaduto, facendo luce sui martoriati anni del risorgimento siciliano e scoprendo alla fine la terribile verità. Amori, delitte e cospirazioni si alterneranno tra antichi palazzi, maestose chiese e mascheroni barocchi. Comincia così il romanzo storico, completamente ambientato da Cireale, scritto da Rosario Russo e presentato alcuni giorni fa nella sala IPAP Arcangelo Raffaele di Via Galatea ad Cireale, il martirio del Bagolaro. Dopo i saluti al presidente dell'IPAP, Paolo Battiato, il sindaco di Cireale Nino Garozzo e dell'assessore della cultura Nives Leonardo, sono poi intervenuti la dottoressa Concetta Gravagno, direttore della Biblioteca Zelantia di Cireale, la dottoressa Susanna Basile, scrittrice e direttore editoriale di Cartago e il dottor Marcello Proietto. L'attrice Barbara Gallo ha poi letto alcune pagine del romanzo. Moderatore della serata è stato Salvo Cavallaro, ovviamente era presente anche l'autore. Rosario Russo, giovane ventisenni di Cireale, appassionato di storia e narrazione cinematografica. Questo è il suo primo lavoro. Il martirio del Bagolaro è in vendita nelle librerie di Acineale, punta e virgola, in corso a 115 e l'almanacco in Fiescionti, 19.